Un incontro da cui emerge e si conferma l'importanza di un pensiero sistemico che metta insieme un po' quelle che sono tutte le esigenze dal punto di vista della società, della struttura economica e in particolar modo dell'ambiente. Abbiamo parlato di quello che serve dal punto di vista del dibattito europeo, del dibattito nazionale. Come WWF ci piace ricordare l'importanza che qualunque dibattito parta dall'oggetto e quindi dalla tutela e la conservazione degli ecosistemi. Abbiamo una strategia nazionale della biodiversità che deve decollare, abbiamo un piano nazionale per il clima che è imprescindibile per andare avanti e abbiamo soprattutto l'esigenza nel prossimo futuro di vedere partire proprio dal governo e dal territorio quelle che saranno le scelte per l'Italia sostenibile che deve venire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.